1969, finisce il periodo transitorio per la realizzazione del MEC. 1999, Boris Yeltsin annuncia le dimissioni e designa su erede Vladimir Putin. 1880, nasce George Marshall. Commenta il Fatto del Giorno Luca Ancetti, direttore di Il Giornale di Vicenza. Giovanni Pascoli, ricorderemo la figura e la poetica di uno dei principali autori decadenti italiani. 31 dicembre 1980, il generale dei carabinieri Enrico Rizziero Galvaligi è ucciso a Roma durante gli anni di piombo. Il suo assassino, rivendicato dalle Brigate Rosse, rappresenta molto probabilmente una rappresaglia per il lavoro che svolge. Galvaligi, infatti, era stato nominato dal generale dalla Chiesa, responsabile del coordinamento dei servizi di sicurezza per gli istituti di prevenzione e pena. E proprio nel mese di dicembre, Galvaligi aveva studiato...